Anticipazioni Beautiful. Venerdì 7 febbraio 2020. Sally e Wyatt pensano ai loro progetti futuri. La spettra ha in mente di curare una linea sportiva e il giovane Spencer accetta felice. Liam comincia a preoccuparsi quando nota che Hop si sta legando a Fidei come se fosse davvero sua figlia. Steffi lo rassicura. Tutto passerà. Hop poco dopo con le lacrime agli occhi dice di essere riuscita a far addormentare Fidei. E si augura che abbiano spento il baby monitor prima della sua nina nanna. Non ha una voce suave e si vergogna troppo. Liam è felice ma si chiede se ciò le consentirà di superare per davvero di recente il lutto. Liam è felice ma si chiede se ciò le consentirà di superare per davvero il recente lutto. Hop ammette che Fidei con la sua dolcezza innocenza le è di grande aiuto. Ovviamente non è la madre naturale della piccola. Poi chiede a Steffi il permesso di poter ritornare anche l'indomani in modo da aiutarla. Allo stesso tempo crolla quando pensa che non potrà mai essere madre. Steffi la munisce, lo diventerà. Afferma che deve solo avere pazienza e tutto si sistemerà. Piangendo la Logan si sfoga e ammette di non intravedere per lei e per Liam un futuro rosio. Un'altra perdita la distruggerebbe. Poi ringrazia di nuovo la padrona di casa per la grande opportunità che le sta dando. Liam e Steffi quando poi la giovane finisce di parlare ammettono che la preoccupazione non accenna a diminuire e arrivano alla conclusione che ci vorrà molto tempo.